Il ministro a Pompei, meraviglia del mondo. San Giuliano al parco archeologico ha presenziato al taglio del nastro per la riapertura della splendida casa dei vettii, ma intanto è stato annunciato un riccaro dei biglietti per accedere ai tesori della città distrutta dal Vesuvio. Follia oltrà sulla 1, scattano i primi arresti. Anche un teppista del Napoli in manette. Sono 150 i protagonisti degli incidenti che sono stati identificati. L'accusa del deputato Borrelli a 8 Channel sono cavernicoli violenti, servono pene certe e immediate. Chiaia, l'ombra dei clan sulla movida violenta. Paura e rabbia a Napoli dopo l'ultima sparatoria scaturita non solo da una lite tra baby gang, ma anche dalle mire espansionistiche del clan di Secondigliano. La presidente della prima municipalità, situazione ingestibile. Monteforte nel caos, la DDA indaga sul sindaco. Costantino Giordano, iscritto nel registro degli indagati per la vicenda delle aste e dei presunti legami con il clan Partenio, lui assicura chiarirò la mia posizione, ma intanto l'opposizione chiede l'intervento del prefetto di Avellino. Salerno è caccia alla banda del buco. Attesi sviluppi nelle indagini sul tentativo di furto alla banca Monte dei Paschi al corso. Intanto il comando provinciale dei carabinieri traccia il bilancio dei controlli per il periodo delle luci garantita sicurezza in città. Rifiuti, niente impianti, ancora ritardi nel sannio. Costi alti per i cittadini, impianti ancora fermi, ancora problemi per la rimozione dell'immondizia bruciata dallo stir di Casalduni. Venerdì riunione operativa tra regione, Ato e provincia per recuperare sul ciclo dei rifiuti. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. Pompei è un unicum mondiale nel quale tocchiamo il valore storico ed economico della nostra cultura. Così il ministro Gennaro San Giuliano che questa mattina al parco archeologico ha presenziato al taglio del nastro per la riapertura della splendida casa dei vettini. Torna a splendere uno dei tesori di Pompei. Taglio del nastro per la splendida casa dei vetti. La cerimonia con il direttore Gabriel Zuck-Tirigel e il ministro della cultura Gennaro San Giuliano che ha detto l'Italia è una superpotenza culturale e la campagna gioca un ruolo da protagonista. Pompei rappresenta un unicum mondiale ed è un luogo dove noi tocchiamo con mano il valore della nostra cultura. Valore certamente storico, filosofico, ma anche un potenziale, un grande valore economico. Il ministro ha ribadito la necessità di allargare l'offerta culturale valorizzando anche i siti meno noti ma intanto l'intenzione è di aumentare il costo di ingresso ai luoghi come Pompei che ospitano tesori unici al mondo. Noi dobbiamo adeguarci agli standard europei. Se una cosa vale, ha un suo valore intrinseco, storico, deve anche essere un po' pagata insomma. Casa dei vetti riapre in tutto il suo splendore uno scrigno di affreschi restaurati tramito Eros. È un grande orgoglio poter aprire oggi la Casa dei vetti, è stato veramente il mio tormento per molti anni. Era una situazione complicatissima, un cantiere era stato abbandonato nel 2002, non c'era neanche il collaudo statico quindi si è ricominciato da zero e oggi finalmente si restituisce a pubblico. Il ministro San Giuliano ieri a Roma ha preseduto anche il vertice con il sindaco Manfredi per Palazzo Fuga. Dopo il sopraluogo congiunto va avanti il progetto per il recupero dell'albergo dei poveri. Stiamo lavorando, spero nei prossimi mesi di concretizzare questa grande ambizione anche personale. Scontri e guerriglia in A1, arrestato anche un ultra napoletano della curva A, intanto sono 150 gli identificati. Il deputato Borrelli a 8 channel dice sono cavernicoli e violenti. Vediamo il servizio. Salgono a quattro gli arresti per gli scontri tra tifosi romanisti e napoletani scoppiati domenica 8 gennaio sull'autostrada 1. Quattro i partecipanti ai tafferuglie che sono stati fermati, si tratta di tre sostenitori giallorossi e di uno partenopeo. Domenica invece al Meazza un altro romanista è stato arrestato. Con 20 dosi di cocaina e al Marassi un napoletano è stato denunciato dopo aver forzato un posto di blocco. Nascondeva tre spranghe nel bagagliaio della sua auto. Da identificare ci sono ancora 300 persone di cui circa 200 sarebbero state già schedate a Milano e a Genova dove sono arrivate per assistere alle partite contro il Milan e contro la Sampdoria. In arrivo denunce penali e d'aspo e il deputato Francesco Emilio Borrelli chiede pene certe. Io non ritengo che questi soggetti siano tifosi ma sono dei violenti e dei selvaggi, anzi dei cavernicoli. Andrebbero colpiti in modo durissimo che addirittura hanno voluto dimostrare la loro forza facendo una cosa clamorosa. Hanno bloccato l'autostrada dividendo in due il paese. Siamo ai confini della realtà e certamente tutto questo non è stato fatto nel nome di Ciro Esposito visto che la madre ha preso subito le distanze e ha sempre detto mai violenza e azioni selvagge nel nome di mio figlio. Nello specifico i reati da contestare potrebbero essere rissaggravata interruzione di pubblico servizio attentato alla sicurezza dei trasporti e della circolazione stradale. Poi servirebbero finalmente pene esemplari. Qua si parla sempre di inasprimento delle pene. Io mi accontenterei che ci fossero condanne rapide e effettive. E a Chiaia paura e rabbia dopo la sparatoria dietro l'ultima escalation di Aguati non ci sarebbe solo una lite tra baby gang ma le mire espansionistiche del clan di Secondigliano. Sentiamo. La faida che da due mesi sta gettando nel terrore i quartieri Chiaia e San Ferdinando non è solo il frutto avvelenato dell'eterno scontro tra i microgruppi criminali attivi nella zona della Torretta. Dietro l'ultima escalation di Aguati e Sparatorie ci sarebbe il potente clan Liciardi che da Secondigliano si appresta ad assumere il controllo degli affari illeciti nel Salotto Buono di Napoli. Alla sparatoria hanno assistito decine di ragazzini terrorizzati ma fino ad ora nessun testimone. Nel quartiere c'è tensione e paura. La presidente della prima municipalità Giovanna Mazzone lancia un SOS al sindaco Manfredi. Chiediamo maggiore sicurezza e maggiore controllo dei nostri territori. Ovviamente Chiaia, l'episodio che è successo a Chiaia è solo la punta dell'iceberg di quello che si vive nei fini settimana. Ovviamente c'è una criticità. La movida comporta un richiamo di tante persone. Quindi controlli sui nostri territori assolutamente che devono essere fatti con presidi interforze. Io infatti non scrivo solo al sindaco perché la polizia locale fondamentalmente da sola non ce la può fare. Chiedo, scrivo al prefetto, scrivo al questore perché abbiamo necessità di presidi interforze. Come ente di prossimità noi quotidianamente accogliamo comunque preoccupazioni di genitori ma anche dei nostri concittadini che sono preoccupati per la propria incolumità. Quindi è giusto intervenire e già da subito noi chiediamo come municipalità che in questo fine settimana siano dei controlli molto serrati. Continua a crescere il prezzo di frutta e verdura, aumenti che preoccupano i consumatori ma anche i produttori che denunciano un'eccessiva speculazione. Sentiamo. Frutta e verdura seguono i rincari di benzina e diesel e i prezzi sono alle stelle. Un effetto valanga come denunciato dai consumatori. Le risentiamo e come? C'è una speculazione secondo me. Bisogna controllare. Buongiorno, possiamo chiederle che cosa ha comprato? Le uova. Quanto ha speso? 5 euro 12 uova, 13 uova. Trova un aumento rispetto al solito? Sì, proprio di sì. C'è un aumento in generale dei prezzi di frutta, verdura e alimentare? Essendo verdura di stagione può darsi però, è scelta quindi... Il pane e la pizza. Trova degli aumenti? Questo signore qua si comporta ancora bravo, sinceramente, però gli aumenti ci sono, che mi fa. In particolare su quali prodotti? Un po' su tutto, tutto proprio. Pochi pensi che approfittano pure. Ho comprato taralli, pizza, cantucci, uova. Trova degli aumenti nei prodotti acquistati? Adesso no, almeno dai signori qui non ancora. Sulla frutta e verdura sì, senz'altro. Noi siamo coltivatori e non abbiamo gli operai. Per colpa di questo reddito di cittadinanza le vendite non ci sono, stiamo in difficoltà. Sta aumentando tutto, i carburanti, il gasolio agricolo non ne parliamo, i concimi non ne parliamo, la plastica, il vetro non ne parliamo proprio. Quindi dove si devono suddividere i costi? Sempre purtroppo sul prodotto finale, dispiace per il consumatore finale, ma pure noi che dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere. Boom di turisti a Napoli nel periodo natalizio. Oltre 300.000 visitatori nelle strutture ricettive, numeri che evidenziano il bilancio più che positivo per l'economia del territorio. Turismo da record durante le festività natalizie a Napoli. Dal 24 dicembre all'8 gennaio sono stati oltre 300.000 gli ospiti di alberghi e bed and breakfast nel capoluogo. Il traffico di passeggeri in aeroporto rispetto allo scorso anno è cresciuto del 42%. Numeri che evidenziano il boom di visitatori che ha dato un importantissimo impulso all'economia locale. Come sottolinea Ivana Jelinic, CEO dell'Ente Nazionale per il Turismo, ospite della trasmissione di Otto Channel Punto di Vista condotta dal direttore Pierluigi Melillo. Le persone appena sono venute via i limiti e i vincoli della pandemia hanno potuto ritornare a muoversi e a viaggiare, ovviamente ne hanno approfittato e lo hanno fatto. Napoli poi, città sempre meravigliosa, accogliente, con un eccellente clima gran parte dell'anno, ovviamente è stata in cima alle classifiche di gradimento dei viaggiatori. Ora la missione per Napoli e la Campania è fare sempre meglio, con l'offerta turistica, l'accoglienza adeguata e i servizi. I grandi eventi sono capaci di attirare flussi turistici anche fuori dai classici momenti di picco della stagione. Poi la disponibilità dei letti chiaramente è un fattore determinante. Altri elementi diventano importanti come la viabilità, il decoro urbano, insomma sono tutti elementi che fanno sì, oltre alla caratterizzazione di un posto, poi ci sia anche proprio la godibilità dello stesso. Intervenga subito la prefettura a Monteforte, Irpino. Noi già in passato avevamo segnalato irregolarità degli atti. Il consigliere di opposizione al comune, Sergio Napi, interviene dopo le indagini della DDA che vedono coinvolto il sindaco Costantino Giordano. Sono tranquillo e pronto a chiarire tutto alla magistratura e nelle sedi opportune ho sempre agito nella legalità e con trasparenza. Il primo cittadino di Monteforte, Irpino, Costantino Giordano, chiarisce la sua posizione rispetto alle indagini della DDA che lo vedono coinvolto per un episodio di estorsione relativamente a un'asta giudiziaria per il ristorante Pagliarone. L'accusa è pesantissima, estorsione aggravata dal metodo mafioso ed è per questo che l'opposizione insorge affinché intervenga il prefetto. Noi ci saremmo aspettati almeno una richiesta di ispezione ministeriale se non una commissione già di accesso agli atti. Però ad oggi, oramai, è passato un anno quasi da quando abbiamo cominciato ad interloquire con la prefettura non c'è stato nessun segnale. Ma Sergio Nappi sottolinea che già in passato la minoranza aveva segnalato alla prefettura alcune irregolarità degli atti. Dall'ottobre del 2021 abbiamo dovuto registrare una serie di atti prodotti sia dall'Aggiunta che dal Consiglio Comunale che a nostro avviso palesavano l'illegittimità di fondo. Sin da febbraio abbiamo avuto un'interlocuzione e prodotto una serie di carteggi che secondo noi sono prova e riprova di un'azione, di un'attività amministrativa non al limite della legittimità ma naturalmente nella piena e certa illegittimità. Associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di stupefacenti sono le accuse per otto persone arrestate nell'ambito di un'indagine antidroga condotta dai carabinieri di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. Cinque persone in carcere e tre agli arresti domiciliari è un'organizzazione dedita allo spaccio di droga sgominata. Questo è il bilancio del blizio scattato all'alba e coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. In azione i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca in provincia di Caserta che hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti delle otto persone. Tutte gravemente indiziate a vario titolo di associazione a delinquere e finalizzata alla detenzione spaccio di droga. L'operazione ha toccato le province di Caserta, Napoli, Catania e Siena e nasce dalle indagini avviate nel giugno del 2020 dai carabinieri di Sessa Aurunca. Nel mirino un'organizzazione dedita al narcotraffico che operava prevalentemente nei comuni casertani di Sessa Aurunca e Mondragune. In particolare dal lavoro investigativo emerso come grazie anche al potere intimidatorio esercitato sul territorio dalle figure al vertice del gruppo fosse stata creata e gestita a carattere monopolistico una piazza di spaccio. Gli indagati usavano un collaudato linguaggio criptico e utenze esclusivamente riservate alle attività di spaccio. I vertici dell'associazione emerso sempre dalle indagini con violenze e minacce avrebbero anche impedito ad altri gruppi criminali di introdursi nella piazza di spaccio e costretto fin anche alcuni assuntori ad acquistare lo stupefacente esclusivamente da appartenenti al gruppo. A Salerno è caccia gli uomini della Banda del Bucco il gruppo criminale che ha tentato di rapinare la filiale della banca Montepaschi di Siena che si trova sul corso cittadino. Proseguono le indagini. Settiamo. Proseguono senza sosta le indagini per risalire all'identità dei componenti della cosiddetta Banda del Bucco il gruppo criminale che il 7 gennaio scorso ha tentato il colpo nel cavo della banca Montepaschi di Siena su corso Vittorio Emanuele a Salerno. I malviventi sono passati attraverso le fognature a metterli in fuga l'allarme e l'intervento dei carabinieri. L'intervento di tanto personale dei carabinieri ovviamente ha contribuito a mettere in fuga questa organizzazione perché sicuramente si tratta di un'organizzazione criminale con più persone coinvolte sicuramente le indagini ovviamente proseguiranno per poter identificare gli autori. Mentre sul fronte della sicurezza in città nel periodo natalizio il comandante Melchiorre si dice soddisfatto. Sicuramente un bilancio positivo di fatto tutti gli sforzi possi in essere grazie al coordinamento ovviamente della prefettura e sotto la direzione del questore ha consentito a tutti i cittadini di trascorrere delle serate tranquille nonostante un afflusso notevolissimo di persone così come ci si aspettava. Caos traffico a causa del nuovo tragitto dei bus per l'autostazione ad Avellino automobilisti e studenti su tutte le furie per gli ingorghi mattutini che ritardano gli studenti anche di un'ora l'ingresso a scuola. Se l'autostazione di Avellino supera il banco di prova della riapertura delle scuole lo stesso non si può dire per il piano viabilità in particolare degli autobus di linea provenienti dalle direttrici variante est e sud-est che hanno provocato l'intasamento della variante e di conseguenza ritardi per tantissimi alunni delle superiori del capoluogo costretti a entrare anche alla seconda ora. Insomma un incubo sia per i passeggeri dei bus che per gli automobilisti diretti anch'essi a scuola o al lavoro. Ciò perché la variante ha dovuto assorbire anche il carico di mezzi di trasporto extraurbano che prima procedeva entrando in città per via Francesco Tedesco per poi proseguire su via Circonvallazione e piazza Kennedy. Riflessi negativi sul traffico poi a cascata si sono registrati anche su Via L'Italia e Via D'Urso. A subirne sono quindi gli studenti che però trovano conforto nella location accomodante dell'autostazione. Ci mette più tempo ad arrivare perché trova più traffico passando per di qua poi per la variante poi ha allungato pure la strada però comunque visto che noi abbiamo la scuola qua sopra ci arriviamo tranquillamente quindi per noi i problemi non ce ne stanno. Nessuna difficoltà, tutto funzionale, tutto perfetto. Mi è rimasta molto colpita questa è la prima volta che vengo qui è molto bella sì. Forse è diverso però la durata più o meno è la stessa sì. Un po' meno contenti i viaggiatori che devono raggiungere il capolinea di corsa. È un guasino. A piazza Macero era meglio là. Serviranno anni per normalizzare il ciclo di rifiuti in provincia di Benevento costi alti per i cittadini impianti ancora fermi e servirà del tempo anche per la rimozione dell'immondizia bruciata dallo stir di Casalduni. Vediamo. Venerdì probabilmente a Benevento direttamente a Napoli riunione tecnica operativa sullo stir dei rifiuti di Casalduni in provincia di Benevento. Si cerca una soluzione per far ripartire al più presto quell'impianto. Ormai da troppi anni fermo a causa di un incendio. Zero impianti rifiuti nel sannio che hanno fatto schizzare la tassa per i cittadini. Ora si attende una scossa. Intanto è stato approvato il piano del lato. Bisogna rivedere un attimo quelli che sono la suddivisione dei subambiti perché il nuovo consiglio ha dato questa linea di indirizzo. Spero che riusciremo a chiudere questo discorso in brevissimo tempo. Intanto siamo partiti appunto con la predisposizione della valutazione ambientale strategica che contiamo di presentare nel mese di febbraio. Restano gli impianti il tassello fondamentale per ripartire con la filiera dei rifiuti in provincia di Benevento. Si attende ancora la data per l'avvio e la rimozione delle coballe bruciate dallo stir che sono destinate alla discarica di Sant'Arcangelo Trimonte. Abbiamo qualche remora mi auguro che si riesca a raggiungere una soluzione che sia la migliore per il nostro territorio. Piano d'ambito che ha individuato già delle possibili aree per le trasferenze. Stiamo parlando di aree intermedie di trasferenza quindi assolutamente poco impattanti sull'ambiente naturale e sugli ambienti urbanizzati quindi voglio dire sono degli impianti che però sono necessarie. Il comune di Eboli è pronto a proseguire la sua battaglia sia contro il tracciato dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria che contro la bretella di collegamento tra la 2 e la statale 18. La città di Eboli ricoprirà un ruolo centrale nel progetto di potenziamento dell'alta velocità un'opera strategicamente importante ma che rischia di far saltare un intero quartiere. Non a caso il comune di Eboli si è opposto fermamente al nuovo tracciato che se realizzato metterebbe a rischio decine e decine di case. Il problema vero per quanto ci riguarda è che abbatte quasi un intero quartiere attraversa questa città insomma lungo e largo per circa due chilometri e purtroppo impatta su 54 abitazioni. Continueremo nella nostra battaglia di opposizione ma abbiamo anche chiesto al tavolo poi che si è creato presso il Consiglio Nazionale delle Opere Pubbliche e quindi il Comitato Speciale una serie di prescrizioni una serie di mitigazioni di questo impatto. Ma in questa fase il comune di Eboli è espresso perplessità anche sul progetto che prevede la realizzazione di un collegamento a scorrimento veloce tra l'autostrada 2 e la statale 18 ad Agropoli un'opera di cui si discuterà nel corso di un'assemblea pubblica. Abbiamo una posizione assolutamente di opposizione in questo momento perché così come viene anche in questo caso indicato il tracciato attraverso l'intero territorio della Piana del Sele quindi gran parte del territorio del comune di Eboli quindi interessa 314 aziende migliaia di ettari di terreno che vengono attraversati da questa bretella che è una strada di livello B significa una strada diciamo tipo autostrada dove non ci sono accessi e che attraversa questi territori queste aziende. Termina qui questa edizione grazie per la vostra attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti